E' stato sottoscritto dalle associazioni datoriali con Fartigianato Edilizia, Casa Artigiani, dai sindacati Filca Cisle e Fillea CGL, il contratto di lavoro regionale per le imprese artigiane della piccola e media industria, 11.000 in tutto quelle coinvolte con oltre 25.000 dipendenti che potranno usufruire del nuovo contratto. Grazie alla sigla per la prima volta in Sardegna, le imprese edili artigiane, che rappresentano circa il 70% delle imprese del settore, si doteranno di un contratto di lavoro costruito sulle specifiche reali esigenze delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali del settore, dichiarano Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Edilizia a Sardegna, e Ignazio Schirru, segretario regionale di Casa Artigiani. Il nuovo contratto regionale adegua anche alle retribuzioni dei lavoratori, legandole in parte all'andamento del settore e tuttavia, come richiesto dalle parti datoriali, salvaguardando le imprese in difficoltà. Con questa firma, precisano ancora Meloni e Schirru, per datori di lavoro e operatori sono in arrivo due novità importanti. La certezza di poter applicare il contratto di lavoro specifico, quindi riducendo il rischio di contenziosi e la possibilità di applicare un contratto meno oneroso degli altri esistenti. L'accordo prevede anche l'istituzione di un osservatorio di settore, inoltre saranno individuati nuovi strumenti a tutela del welfare erogato a lavoratori e imprenditori del comparto. È importante, precisano infine Meloni e Schirru, che le imprese sappiano che con questa operazione si fa chiarezza sul contratto da applicare, uno strumento atteso che mancava nel panorama delle costruzioni.